Il Gio era immenso. Il Gio causava in modo ruvido, cioè il cucinato lui non lo sapeva fare. Era una specie di Hulk, te lo ricordi? Aveva delle pietre nelle mani e con i cazzotti ammazzava degli animali enormi. Se ti toccava ti faceva male, ti poteva pure ammazzare diciamo. Nonostante Gio non abbia mai vinto una medaglia o una cintura, nella sua categoria è stato uno dei pugili più forti di tutti i tempi. Gli dicevano proprio tutto, comunista, mangiatore di bambini, nemico dello Stato, rosso. Guarda che adesso se ti dico una cosa mi devi credere. Giuseppe è stato uno dei migliori pugili del mondo. Del mondo, no d'Italia. Del mondo. Che faccio? Che faccio? Maranugazzot? Cáui. Cámura. Esposito. E allora? Come si fa? Mi piacerebbe trovarlo, mi piacerebbe incontrarlo.